Grazie a tutti. Grazie molto al professor Neri per avermi invitata e per avermi dato anche la possibilità di approfondire, per me che sono psichiatra, che a lungo ho lavorato nell'ambito della psichiatria di consultazione, magari adesso il professor Comacchio si confermerà l'ipotesi che è meglio di fidare degli psichiatri, però lavorando nella psichiatria di consultazione di Liesson mi sono occupata spesso di pazienti vertiginosi. Allora quello che vi chiedo di fare è se possibile di avere un po' di indulgenza nei confronti della mia formazione che è fenomenologica, psicanalitica, quindi molto distante dal mondo cognitivo. E quindi pensavo questo mio incontro di dividerlo in due parti. Una prima parte è fenomenologica, dobbiamo molto alla fenomenologia, pensiamo ai lavori straordinari di Merleau-Ponty sulla percezione, sul rapporto corpo-spazio per esempio. E la seconda parte invece che è un po' una sorta di rivistazione dei lavori più recenti della bibliografia scientifica, della letteratura scientifica rispetto a ansia, depressione, soprattutto alcuni sintomi che mi piaceva vedere con voi e magari sentire il vostro parere. Quindi è un invito un po' a un pensiero della complessità andando al di là della chiarezza delle diamine. Ecco in questo mi piaceva ricordare un po' quello che dice Rilke quando dice io ho molta paura della parola degli uomini perché dicono sempre tutto così chiaro. Ecco questo probabilmente non sarà una presentazione chiara e mi perdonerete per questo. Di fatto cosa vuol dire sentirsi instabile? Ieri il professor Bronstein ci mostrava questo pulcino, è un pulcino danneggiato dal punto di vista vestibolare. Cosa sente un pulcino quando si sente instabile? Cosa sentiamo noi nell'instabilità? E può accadere a volte che l'esistenza si faccia incerta, che il passo si faccia insicuro e per tante ragioni. Può essere una malattia fisica, può essere un trauma psichico, può essere anche una vita che procede tranquilla, regolare e che però sembra mostrare un po' tutto lo scontento. Può essere quando per esempio penso a un'operatrice di cure palliativa, una collega oncologa, mi diceva tutte queste morti. E' arrivato un momento in cui veramente mi sembra di non avere più il terreno sotto i piedi e comincio a sentire questa vertigine andata dagli otorini, ha approfondito la situazione, perché c'era qualcosa che nella sua vita non trovava più un centro, sembrava non trovare più un centro. O si può fare incerta la vita quando una malattia ci colpisce, o anche quando qualcosa si vuole far presente e quanto succede a Giulia, che comincia ad avere un forte senso di stabilità la prima volta, quasi come un attacco di panico andando in treno. E c'è questo movimento e lei sta venendo a Roma per i suoi studi universitari a vent'anni e contenta e la vita è davanti. E però improvvisamente questo malessere forte, continuo, un girare, ma no, forse più un barcollare. Già Freud parlava nel 1895 del barcollamento, la forma più leggera di vertigine. E lui la collegava alla nevrosi d'angoscia. E in questo barcollare, da quel momento in poi, comincia ad essere proprio il suo modo di stare al mondo. Un barcollare continuo, una sensazione continua di instabilità. Soltanto nel tempo e attraverso un lavoro lungo e faticoso potrà riconoscere un po' le ragioni di questa instabilità. Ma diventa talmente penoso che il solo pensare al movimento diventa per lei insostenibile e produce sintomi di disness e mancanza di equilibrio. E come pensa alla mancanza di equilibrio se pensa che non può fuggire da nessuna parte, perché anche se lei si ferma, anche se lei sta immobile e si cristallizza, c'è comunque la terra che gira sempre. E il solo pensiero di questo le provoca malessere. Beh, una volta la vita si mette proprio in diagonale ed è difficile mantenere l'equilibrio. Ma cosa vuol dire? Ecco che si creano nuove geometrie della mente, nuove geometrie dell'esistenza, tutte le volte in cui di fatto altre alterazioni che siano su base organica, che siano su base psichica, di fatto finiscono per determinare come dei frattali e per ricomporsi in questa sorta di caleidoscopio rotto. E allora ecco perché penso che sia fondamentale considerare che chi voglia avvicinarsi ai pazienti con instabilità debba sempre collocarsi in una terra di mezzo, tra mente e corpo, tra conscio e inconscio, tra senso, percezione e movimento, tra pensieri e affetti. E considerare le antinomie, è un continuo di antinomie, tra la stasi e il movimento, la stabilità e l'instabilità, il dentro e il fuori, la presenza e assenza, lo stare in piedi e il cadere, o l'equilibrio, la perdita di equilibrio, il pieno e il vuoto, l'angoscia e la difesa. E allora cosa vuol dire sentirsi instabili? Intanto considerare quello che è vero per qualsiasi sofferenza, per qualsiasi dolore, che sempre, come ci ricorda Moravia, Sergio Moravia, multiforme e molteplice, mentale non meno che fisica, relazionale non meno che individuale, simbolica non meno che reale. Ed è questo il pensiero della complessità, lo stare insieme di livelli diversi, perché quando ciò accade non può che tradursi in uno spaisamento, un perturbante, il concetto di Hunheimlich, che Freud diceva proprio il perturbante, cioè trovare ciò che non è familiare in ciò che è familiare. È questo che diventa spaisante. Il corpo, che è sempre considerato luogo della stabilità che abitiamo e che improvvisamente, è vero signora Magione, diventa altro. È l'esperienza del perturbante, ed è bellissimo che ci sia stata la voce proprio di chi vive questo, che credo sia proprio la centralità, centralità. Grazie. E questa estraneità di cui parla Nancy, Jean-Luc Nancy, questo grandissimo filosofo che peraltro ha subito un trappianto cardiaco, quindi ne sa molto di estraneità nella familiarità, che dice una estraneità si rivela al cuore di ciò che viene più familiare, ma dire familiare è ancora troppo poco, al cuore di ciò che non si è mai rivelato come cuore, e potremmo dire la stabilità di ciò che non si è mai rivelato come stabilità. È una discordanza, nel senso vero, etimologico del termine, il cuore che sente cose diverse, incompatibili, antitetiche, e che riguardano principalmente il mondo. Il mondo è il corpo, il corpo è lo spazio, il corpo, come ci ricorda Merleau-Ponty, è il mezzo generale per avere un mondo. Non possiamo vivere al di là di questa spazialità che è nel tempo e che in qualche modo modula qualsiasi nostra relazione. Il corpo è il suo linguaggio, che a volte è un linguaggio sintomatico e che a volte è un luogo di nascondimento, a volte invece è un luogo di svelamento. Attraverso quel sintomo è possibile forse aprire una breccia nel vissuto e nella psiche, e non solo, forse anche nel corpo dell'altro. È quello che dice un po' Pessoa quando parla che un'enorme inquietudine mi faceva rabbrividire i minimi gesti. Guardate sensazione e movimento insieme. Un'inquietudine che fa rabbrividire i gesti. Ho avuto paura di impazzire non di follia, ma proprio per i gesti. Pensiamo al sintomo dell'instabilità. Il mio corpo era un grido latente, il mio cuore batteva come se si inghiozzasse. Vedete questi continui movimenti quando la vita cambia direzione? I confini si fanno incerti, lo sono sempre, diceva Melvin, i confini sono sempre porosi e sfrangiati, però quando stiamo male questi confini diventano ancora più incerti, instabili, insicuri, tempo e spazio si deformano e allora può accadere di sentirsi sempre meno stabili, quasi di oscillare e la paura di cadere, di perdere il terreno sotto i piedi, che sappiamo essere una delle paure in assoluto più antica dal punto di vista filogenetico, oltre che ontogenetico. E diventa uno smarrimento, uno stare solo, un non saper la strada, un perder l'equilibrio, il non tenersi in piedi o forse uno sbandare un po'. A volte sentirsi leggeri, con la testa vuota, leggera. A volte i pazienti dicono è un po' come camminare, a volte sulle nuvole o avere la testa piena di nuvole, la testa piena di fumo, questa mancanza in qualche modo di lucidità. A volte qualcosa di più forte, è come essere presi in un gorgo, è ruotare, vertigine, lascio a voi la parola, non so. A volte è un malessere senza forma, come un rumore di fondo che però accompagna tutte le giornate quando il paziente dice, e penso a una paziente Giulia, la cui vita era quasi perfetta se non avesse subito un trauma e una violenza che per poco non si è tradotto in un femminicidio. E lì da quel momento in poi è iniziata questa sintomatologia vertiginosa terribile che ha accompagnato per anni come malessere di fondo la sua esistenza. Sottile, a volte più intensa, però sempre continua. Ansia, angoscia, in particolare l'angoscia. Già Freud appunto aveva riconosciuto come la vertigine o quello che lui chiamava barcollamento. Questo è un testo del 15-17 ma pensate che nel 1895 Freud parlava della vertigine come sintomo d'angoscia e diceva precisamente il barcollamento anche quando non è accompagnato d'angoscia. Per dire mente e corpo, una sola lealtà. Di fatto a volte questo si traduce in un panico, in un intrappolamento in quello che è la fuga tra l'agorafobia e la claustrofilia. Quante volte le persone che soffrono di agorafobia, abbiamo sentito questa bellissima lezione del professore, di fatto si trasforma nella ricerca di un luogo chiuso, dello stare protetti al sicuro in un luogo magari anche piccolo, la claustrofilia, che però a sua volta poi si ribalta nell'opposto e si diventa troppo stretto il bisogno di aria, di aperto, quindi claustrofobia e agorafilia. E a volte tutto questo si accompagna alla vergogna, allo smarrimento, a volte mi sembra di non riuscire a tenermi in piedi, sembro ubriaco, diceva un paziente, mi vergogno. È come camminare sulle nuvole e non voglio più uscire, no? Preferisco rimanere a casa perché sei sospeso e ti senti invisibile, perché una delle difficoltà maggiori è parlare di qualcosa che gli altri non vedono, no? Ti vedono soltanto barcollare e il tuo malessere è invisibile e allora c'è una difficoltà a sentirsi compresi, è tutto nella testa, forse sono matta. La signora Gaggioli ci ha ricordato bene quanto è difficile sentirsi presi sul serio. Mi trattano come una malata immaginaria, come se lo facessi apposta, oppure è solo ansia. Guardate qui il vecchio modo di pensare, mente e corpo separati e non due prospettive diverse sullo stesso fenomeno che sempre interagiscono, quindi solitudine, senso di isolamento e depressione. Vedete come la depressione dal senso di vuoto, che a volte si avverte quando c'è una vertigine o anche uno sbandamento, diventa a volte sentimento di vuoto ed è proprio il quadro depressivo che accompagna a volte i disturbi di tipo vestibolare. Sono tutte perdite, lutti, questo è il nucleo della depressione fondamentalmente, l'esperienza della perdita, perdita della sicurezza, del senso di stabilità, del senso di sé, ma anche della rappresentazione corporea e dei confini corporei. Mi piace farvi vedere poi alla fine due aspetti su questi sintomi che riguardano i confini corporei. La fiducia in sé, nella propria capacità, nell'autonomia, ma anche perdita nelle relazioni, di ruoli sociali, i cambiamenti di stile di vita, no? Non poter andare in bicicletta. Pensate cosa può voler dire questo, no? Per una persona che magari ha sempre avuto quella come passione, no? E non poterlo più fare. Cosa succede? Cambiamenti nei ruoli. Allora ecco che è un frammentarsi che riguarda l'integrità corporea, i pensieri, i sentimenti, il mondo, è una perdita di confini fra dentro e fuori e tutta la vita dell'anima appare questa incertezza della coscienza e tutto sembra evaporare, come ci ricorda Pessoa. E qui due sintomi importanti, che badate, sono sintomi che spaventano molto i pazienti perché collegati all'esperienza psicotica, ma che in realtà ritroviamo nell'ansia, in molti disturbi d'ansia e nella depressione, la depersonalizzazione e la derealizzazione. Depersonalizzazione, non mi riconosco più nel mio corpo, il mio corpo mi sembra estraneo, oppure la sensazione quasi robotica del mio corpo, o derealizzazione. È il mondo che mi sembra lontano, molto distante e sembra quasi di vederlo attraverso un vetro appannato, appannato di lacrime, chi lo sa. È un cambiamento nell'esperienza di sé, un sentirsi diversi, io un altro, ci ricordare un po', e smarrirsi nella nebbia, uno stress ma in realtà un male essere, un segno indecifrato, come ci ricorda Alderlin e lui sì che purtroppo sapeva profondamente che cosa voglia dire sentirsi smarriti a livello psichico, cosa vuol dire perdere il senso del dolore e il linguaggio in terra straniera. Ed ecco allora che quando perdiamo tutto questo abbiamo bisogno di qualcosa di certo e di stabile, che cerchiamo nei nomi, nelle definizioni, che sono importanti, ovviamente sono importanti. Però non c'è solo questo livello, non c'è solo quel livello della definizione perché non è quello, non ci sono soltanto i modelli che pure sono importanti per orientarci, ma non solo quello. Il punto centrale è quello che Schopenhauer chiamava il welknoten, il rapporto, il nodo mente-corpo. Questo è il vero punto, che non sono semplicemente prospettive da cui guardiamo lo stesso fenomeno, gli otorini, i neurologi, gli psichiatri. Guardiamo aspetti diversi, però di una stessa realtà. E allora il vestibolare è bello pensarlo come senso nascosto. Questa è un'immagine di Bill Viola, un artista che io amo molto e che ha molto a che fare di fatto con la percezione del tempo e dello spazio. E allora, come diceva giustamente il professor Neri, pensando a questo convegno, al di là del controllo della postura e dei riflessi oculomotori, tutte le afferenze così ampie, anche a livello corticale come abbiamo sentito, del vestibolare ci dicono, come ci dice la letteratura, che il sistema vestibolare è sempre più implicato in moltissime altre funzioni, come la coscienza di sé e la coscienza del sé corporeo, la rappresentazione mentale del corpo, l'umore e la regolazione degli affetti, la personalità, le differenti capacità cognitive, per esempio l'insight che rappresenta qualcosa di estremamente importante. C'è questa review molto interessante di MAS del 2014 che proprio considera come tre grandi campi di studio, la cognizione spaziale, la rappresentazione corporea, i processi affettivi e la loro regolazione. Considerate che è sempre un doppio movimento chiaramente, top down e bottom up, perché è così che siamo fatti, abitati continuamente da questa oscillazione, no? Alto-basso, continuamente basso-alto. E quindi questo vivere lo spazio con la gravità e le sue varie vicissitudini è veramente una storia antica e non è un caso che anche da un punto di vista filogenetico il sistema vestibolare sono due più antichi, badate come quello emotivo, eh? E forse non è un caso. E lo spazio orientamento, movimento, attenzione, memoria e le disfunzioni a carico dell'attenzione a memoria spaziale. Guardate qui, quando diciamo che i pazienti con perni la vestibolare bilaterale hanno un decremento del volume dell'ippocampo, ma è la stessa cosa che troviamo in pazienti che abbiano subito un trauma infantile o adulto. Importante. Quasi a volte una sorta di atrofia ipocampale, iperattivazione dell'amigdala, ma di fatto l'ippocampo si riduce. Come distinguiamo una memoria dall'altra? Sappiamo che il vestibolare interessa anche, questo è molto, per dire come veramente siamo nello spazio, anche la possibilità di contare, no? Nella cultura occidentale noi collochiamo i numeri piccoli a sinistra e i numeri grandi a destra. E questo si è visto che è praticamente fortemente modulato dal sistema vestibolare, ma anche il tempo, la linea del tempo. Quindi quando in genere pensiamo al passato tendiamo a oscillare verso sinistra e invece pensiamo al futuro verso destra o addirittura indietro e avanti. questi sono i riferimenti bibliografici di chi ha studiato in maniera molto interessante questi fenomeni. Come dire, anche immaginare, pensare al tempo, pensare al passato, pensare al futuro e un tutt'uno con l'esperienza del corpo. Ma anche il prendere decisioni. Purtroppo oggi non c'è il professor Bronstein che si è occupato di un articolo molto interessante di come il vestibolare intervenga nella capacità di prendere decisioni, di orientarsi nel mondo. E la cosa forse non ci sorprende poi tremendamente. Ecco che allora è un senso nascosto, forse un sentire di fondo, una sensazione inconscia che segnala la presenza di sé e dell'esserci. Un po' qualcosa di simile a quello che Damasio aveva detto per i sentimenti, parlando di background feelings, che è un modo proprio di sentire di sottofondo. Ma soprattutto il vestibolare è ciò che promuove l'ancoraggio di sé al corpo, favorendo quell'integrazione psicosomatica che è uno degli aspetti fondamentali del buon funzionamento fisico oltre che psichico. Essere nello spazio, essere nel mondo e proprio questa presa di coscienza globale della postura nel mondo, quella che Merleau-Ponty ha definito come spazialità di situazione, che ci permette di abitare il mondo, di essere nel corpo e di sentirci corpo. E questa è la mente incarnata di cui parlava il compianto, mai troppo compianto, Francisco Varela. È un danzare con la gravità, come dice benissimo in questo articolo Fuchs. Danzare con la gravità, la nostra vita è un continuo danzare con la gravità, con lo spazio, con il corpo vissuto e rappresentato, perché appunto il vestibolare interviene anche a livello immaginativo. Per esempio c'è questo articolo molto interessante di Sue Ellenberg sulla rotazione immaginata che facciamo del corpo, di parti del corpo, giochiamo con la mente del sistema vestibolare. E di fatto il sistema vestibolare si è visto che la stimolazione calorica vestibolare può davvero migliorare molte situazioni che si accompagnano anche ad esperienze psichiche di particolare intensità negativa, come il neglect, l'anestesia, la sensazione dell'alto fantasma, ma anche la regolazione degli affetti. Qui non mi soffermo, ma vi suggerisco questo articolo molto bello di Mast e collaboratori, proprio sull'influenza del sistema vestibolare sulle emozioni e in particolare sulla regolazione emotiva. Badate che questi sono lavori veramente innovativi, in particolare nei pazienti con disturbi bipolari. Si è visto come una stimolazione calorica sinistra tenda ad attenuare i sintomi maniacali in pazienti bipolari. E voi sapete che i pazienti bipolari sono pazienti veramente difficili a volte da trattare. Quindi avere la possibilità anche di utilizzare proprio la stimolazione vestibolare magari anche da un punto di vista psicologico e psichiatrico, la transdisciplinarietà forse ci potrebbe aiutare. L'umore, vi dicevo, queste anatomie non solo, perché vedete è stato parlato a lungo, ma quello che è importante forse è proprio questa lateralizzazione degli affetti e del sistema vestibolare. Sappiamo che a differenza di quell'emisferica la lateralizzazione vestibolare ha ricevuto poca attenzione, ma negli ultimi anni questo sta cambiando profondamente. Ed è quello che vi dicevo, l'effetto positivo sulle forme maniacali, l'incremento in questo bel lavoro di Levin del ritmo alfa frontale nei pazienti con disturbi schiziaffettivi. Questa è una novità ed è credo di particolare interesse. Cioè stimolando in questo modo si migliora la capacità di insight della malattia. E voi capite bene, qui si tratta di pazienti psicotici che hanno una scarsissima consapevolezza del proprio disturbo e del proprio disagio. Quindi ecco che un'altra delle funzioni potrebbe essere proprio quella legata all'insight. E naturalmente sempre il doppio disagio. Sappiamo che chi ha disfunzioni vestibolari può incorrere in disturbi d'ansia e disturbi depressivi e altri disturbi psicopatologici, ma è vero anche il contrario. È vero anche che molte persone con disturbi d'ansia e disturbi depressivi mostrano segni e sintomi di tipo vestibolare. E non mi soffermo sulle emicranie vestibolari. Per esempio questo studio molto interessante è fatto per esempio sui pazienti con attacco di panico dal punto di vista della posturografia statica e dinamica. Ha rivelato come questi pazienti di base tendano ad oscillare molto di più. Ed è proprio questa sensazione che spesso riferiscono i pazienti con panico. Di non avere, proprio di non sentirsi fermi. E questo è correlato, questa oscillazione con la severità dell'ansia anticipatoria e di quella che porta poi all'evitamento. Quindi di fatto questa bella review di Stab sintetizza un po' i maggiori lavori fatti proprio sui disturbi d'ansia. Però quello, vedete qualche voce bibliografica, ma vedete quante voci, soltanto le più recenti. Però quello su cui veramente due minuti finali sono proprio questi sintomi. I sintomi che riguardano, è stato detto, la personalità, forse impropriamente, perché poi la personalità è qualcosa di molto più complesso. Però questi sintomi, in particolare depersonalizzazione e derealizzazione, che sono sintomi molto frequenti, non solo nelle forme psicotiche, ma anche in forme di disturbo d'ansia e in particolare di panico. E sono i sintomi in assoluto meno tollerati dal paziente con ansia e panico. La depersonalizzazione, quello che vi dicevo prima, sentirsi distaccati dal corpo, la sensazione di essere offuscati, di non riconoscersi nel proprio corpo, di sentirsi un robot e di fatto, oppure di sentire parti del corpo distaccate, ma anche la derealizzazione. La sensazione che il mondo esterno, le persone, la cosa, l'ambiente sia strano o irreale. Badate che è stato detto prima, è stato molto interessante, si è parlato di dipendenza visiva. Considerate che molti pazienti ansiosi, questo lo sa la psichiatria, tendono ad avere una dipendenza visiva e con questo forse, chissà, magari un maggiore mismatch rispetto all'informazione vestibolare. Di fatto, sia la frequenza che la sensibilità dei sintomi, depersonalizzazione e derealizzazione, sono sicuramente più grandi nei pazienti con disturbi vestibolari. Vado a conclusione, semplicemente ricordando il grande contributo di uno psicanalista pediatra, che è Winnicott, quando parlava del fenomeno della depersonalizzazione come l'opposto della personalizzazione. E per personalizzazione lui intendeva la presenza, il senso di sé, la continuità di sé, la presenza di sé nello spazio, nello spazio, l'ancoraggio dell'io allo spazio. Quindi la depersonalizzazione diventa quella dissociazione psicosomatica, che quando si spezza, come diceva Winnicott, la questione che alla base di un sé sano, che non è l'io ma il sé e la persona che io sono, si smarrisce l'unità psicosomatica dell'esperienza. Sappiamo poi, pensando al benessere a cui si riferiva il professor Neri all'inizio, quanto sia importante, ed è una cosa bellissima, un bellissimo spunto, quanto sia importante magari utilizzare, sarebbe bello un lavoro a più voci, appunto oltre il vestibolo come ci dice in maniera proprio pionieristica, utilizzare anche stimolazione vestibolare per sincronizzare i ritmi, si è visto che migliorano i disturbi sonnoveglia, e soprattutto utilizzarlo, come dicevo prima, per incrementare la possibilità di consapevolezza. E questo lo si può fare attraverso anche delle forme, per esempio la mindfulness, scusate qui, io sono un'appassionata di mindfulness, quindi di fatto non potevo non citare, la possibilità di essere presenti a ciò che accade e che sembra migliorare molto, è la sintomatologia. Ed ecco perché voglio finire adesso con questa poesia, dice, perciò quando in un giorno di calura sento la tristezza di goderlo tanto, mi corico tra l'erba, chiudendo gli occhi accaldati, sento tutto il mio corpo immerso nella realtà, so la verità e sono felice. Grazie. Grazie mille, complimenti vivissimi anche e non solo per l'iconografia. Allora, ci sono domande? Abbiamo poco tempo, quindi vi prego di essere molto sintetici. Volevo ringraziare la dottoressa perché è la prima volta che sento interpretare i nostri sintomi, il nostro vissuto, la nostra persona con così tanto affetto, oltre che professionalità ovviamente. Mi permetto solo una piccola aggiunta nel concetto di perdita, la possibilità di ascoltare il silenzio per noi malati di maniera. No, lassù, guardi, prima c'è stata signorina. E quindi ecco, grazie di cuore. Grazie. La. Poi. Uno, due. Grazie per la relazione perché soprattutto noi medici spesso abbiamo poco tempo per entrare al capire quanto problematiche di tipo vestibolare entrino poi nella vita dei pazienti, le porto due esempi clinici, uno mio e uno della letteratura. Il mio, un paziente che ha sofferto di malattia di Meniere, non aveva più crisi, aveva solo questa instabilità cronica, aveva perso l'udito nell'orecchio doveva la malattia. E io gli ho proposto di fare una labirintectomia con impianto simultaneo nello stesso orecchio. Quindi togliere i residui del labirinto e dare una tonicità allo stimolo del nervo cocleo vestibolare. E dopo ho fatto l'intervento a distanza di tempo, quando per presentare sto lavoro sono andato a chiedergli cosa era cambiato nella sua vita, lui mi ha detto. Io prima non riuscivo a fare più di 500 metri, 500 metri era il mio limite. E non andavo più in bicicletta, io ero stato un appassionato di bicicletta. A distanza di un anno dell'intervento non aveva limiti nel camminare ed era riuscito a fare 10 chilometri in bicicletta. Un altro caso che ho portato alla letteratura, un medico operato alla staffa, quindi un intervento in cui un pistoncino gettava nel vestibolo. Questo medico dopo l'intervento ha un po' di disequilibrio e inizia a perdere memoria con grosse problematiche nel suo lavoro, questo è un caso che si è in letteratura, se non che a un certo punto decide di farsi operare per i problemi di disequilibrio e improvvisamente gli torna la memoria. Grazie. Intanto grazie a Gian Piero per darci l'opportunità di confrontarci con queste diverse realtà che poi si confrontano con tutti noi e ci ricorda quello che dice spesso, con il quale mi riconfronto Aldo Messina, che in effetti è tutto un toto. E io ricordo come quando ragazzo cominciai a studiare medicina ci insegnarono, e poi l'ho imparato laureandomi in filosofia perché ho questa doppia possibilità, che in effetti la medicina è pensiero. Non a caso Ippocrate, il nostro antico maestro, aveva tre docenti, tre maestri suoi filosofi, talete, anassimani e anassinanzo. Io ho dei casi che condivido con mio fratello che è vestibologo di oftalmologia, dove in effetti il paziente vertiginoso esclude, l'ho detto poco fa quando c'era la relazione del nostro amico professore poco fa, che in effetti il paziente stesso cerca di soffocare il suo stato di vertigine escludendo alcuni organi di senso, mettendo gli occhiali scuri, vivendo in un ambiente poco illuminato o addirittura un'altra esperienza di un altro paziente che cambiando ambiente completamente, dalla Sicilia è andato a vivere in Svizzera e lo dicevo prima con il professore Mira, ha completamente bloccato il suo stato di disagio, ecco, di equilibrio. Allora forse non è solo il conoscere e prendere coscienza di se stessi, è anche il confrontarsi con un ambiente più idoneo a se stessi. E allora mi viene di chiederle, professoressa, lei non pensa che indipendentemente da tutte le situazioni cliniche, obiettive, che possono provocare lo stato di mancato equilibrio, chiamiamolo così, di disagio dell'equilibrio, non sia anche la possibilità di un'espressione clinica, fisica, di un malessere psicologico, quindi una somatizzazione. Grazie. Grazie molte proprio per questa domanda e grazie per i contributi proprio importanti. Sì, anche se personalmente ho molta difficoltà col concetto di somatizzazione, perché il concetto di somatizzazione è utilizzata ancora troppo spesso in ambito medico e purtroppo anche in ambito psicologico, secondo quello che era il vecchio modello freudiano dell'isteria di conversione, quindi uno spostamento dal corpo di un conflitto psichico a livello corporeo. E invece anche la psicanalisi dei giorni nostri tende a veramente presentare un altro scenario, quindi non somatizzazione, mente-corpo come espressione di una stessa unica realtà e possibilità quindi di osservazione di un fenomeno, da una prospettiva che magari è prevalentemente fisica, ma prevalentemente perché sempre in qualsiasi atto, credo, percettivo, motorio, non possiamo escludere. C'era qualcuno che ha detto solo gli occidentali sono abituati a ragionare in termini che la psiche è solo nella testa, no? La psiche è un tutt'uno e di fatto il corpo è un tutt'uno, quindi veramente non... ecco perché personalmente è molto vero, cioè mi ritrovo molto... l'unica cosa non utilizzerei il termine somatizzazione. E se posso dire soltanto una brevissima cosa sul vago, perché è stato... si è parlato di stimolazione vagale. Beh, sapete che da qualche tempo in ambito psichiatrico è stata introdotta una nuova ipotesi, che è quella cosiddetta polivagale, no? La cosiddetta stimolazione polivagale, che ancora deve avere delle conferme, però è molto interessante perché attraverso delle tecniche, non di tipo meccanico, di tipo elettrico, però diciamo attraverso determinati movimenti, determinati respiri, si favorisce praticamente un'attivazione vagale e sembra che questo possa produrre un grande beneficio su molti sintomi e non so se sia stato fatto qualcosa sulla vertigine, però per esempio su molti sintomi, vero, di tipo psichico o obiettivamente. È una teoria di Porges che ancora, diciamo, deve essere prontamente, però è interessante. Ecco questo. L'ultima. E volevo chiedere, complimenti per la sua presentazione, volevo chiedere, noi diciamo spesso in nostri congressi di vestibologia che dobbiamo evitare la cronicizzazione nel paziente affetto da vertigine proprio per evitare tutta una serie di problemi emotivi. Lei utilizza nella sua, come dire, dal punto di vista pratico, utilizza dei farmaci proprio per evitare questo? E volevo sapere la sua esperienza in merito all'utilizzo, se lei utilizza dei farmaci e che risultati ha. Grazie. Sì, grazie. Grazie, sì. A volte ho utilizzato dei farmaci, in particolare come è stato ricordato gli inibitori del reuptech della serotonina. Personalmente mi trovo molto bene con la paroxetina e con sertrelina, quando li ho utilizzati. È un farmaco che secondo me è molto utile, però naturalmente siccome è molto efficace e tende a portare all'abuso. È sicuramente l'alprazzolam. Però l'alprazzolam generalmente è ben tollerato, soprattutto dai pazienti con attacchi di panico. Naturalmente però credo che sia molto importante evitare la cronicizzazione anche per esempio, perché ho utilizzato i farmaci, ma ho utilizzato anche per esempio il suggerimento di fare massaggi, di fare e di applicare per esempio altri tipi di approcci, quindi non esclusivamente farmacologico. Grazie. 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 Grazie.